Riguardo agli studenti che stanno in questi giorni finendo la maggiorità ma studiando anche per il test di medicina, cosa consiglierebbe e quale augurio vorrebbe fargli? Io consiglio di affrontare in maniera positiva il test. Quest'anno avremo un test un pochino diverso rispetto agli anni passati in cui si sono ridotte le equizze di materia culturale, non perché non ci voglia la cultura ma perché è troppo vasto e si presta a domande difficilmente risolvibili, di non demordere anche se non passano e di riprovarci se questa è la loro aspirazione. Quindi studiare tanto in questo periodo, studiare con chi magari ha già avuto esperienza dei test e sa che cosa vuol dire, non demordere e auguro loro di poter realizzare il loro sogno.